Rubarono un trattore ed una cernitrice ed un imprenditore agricolo chiedendo il cavallo di ritorno. L'uomo denunciò l'accaduto ai carabinieri della stazione di Oria che hanno poi arrestato tre persone. A finire in manette con l'accusa di estorsione in concorso con la tecnica del cavallo di ritorno, il 34enne Francesco Palmisano, già sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, il 27enne Cosimo Damiano Destradis ed il 62enne Angelo Di Michele, titolare di un autolavaggio in via Torre Santa Susanna. Gli arrestati, tutti di Oria, sono così risultati coinvolti in una storia di coraggio e collaborazione con le forze dell'ordine dell'imprenditore che, dopo la denuncia del furto dei suoi mezzi agricoli dello scorso gennaio, era stato invitato dai militari dell'arma all'avvisarli in caso di richieste di denaro inerente il furto. Un mese dopo, l'agricoltore Oritano aveva ricevuto la visita di due sconosciuti a bordo di una Ford Focus. Uno dei due era sceso dall'auto e gli aveva offerto la restituzione del trattore a fronte di un pagamento di 1.800 euro da liquidare anche in due rate. L'imprenditore, avvisati i carabinieri e predisposto un appuntamento con l'estorsore per la consegna della prima rata, permise proprio nella stessa giornata l'arresto di Francesco Palmisano, risultato poi una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. La sera dell'arresto, la vittima e i suoi familiari, erano stati avvicinati da un altro sconosciuto che chiese animatamente di ritrattare le accuse dietro la promessa della restituzione dei mezzi rubati e in una seconda occasione, sotto minaccia, di sottoscrivere su un documento già pronto e firmato da un avvocato del posto, nella quale dichiarava di aver ricevuto dall'arrestato come riparazione del danno avuto con il furto. Ogni richiesta era riferita ai carabinieri che, indagando tramite intercettazioni, appostamenti e pedinamenti, sono così arrivati a Angelo De Michele, individuato come il mandante della richiesta di 1.800 euro per il trattore Cosimo Destratis, indicato come l'autista della focus della prima estorsione, arrestati oggi e condotti nel carcere di Brindisi, dove è stato anche rinchiuso il complice 34enne.